ehi bello a tutti voi ragazzi dal vostro schifi game ragazzi finalmente la nuova stagione è qui ragazzi stagione a tema marvel ragazzi gg ragazzi allora ragazzi come sempre vi ricordo supporto un creatore schifi game accettate e gg per tutti coloro che scioperanno il passo con il codico creator schifi game allora ragazzi mo lo andiamo a scioppare ok eccolo qua 950 ragazzi controllate sempre il codice creatore se l'avete inserito eccolo qua ragazzi di tamburi ragazzi compriamo conferma acquisto yes pass battaglia sbloccato ragazzi iniziamo a vedere subito la prima skin che ci danno ragazzi pass battaglia potenziato win pool ragazzi bellissima andiamo subito a linguaggiare e in più ci danno 5 stelle del pass battaglia ok ragazzi pass vediamo un po ragazzi io inizio da qui doom ragazzi bellissima skin di doom tutti i punti interrogativi solo doom poi ricompensa incarichi ragazzi allora vediamo cosa abbiamo piano piano li vediamo tutti discreto buono gg dai uno spray ragazzi stile aggiuntivo di win pool ragazzi e poi qua tutto da scoprire le ricompense bonus ragazzi abbiamo bello ragazzi cc musica di box questo e poi bella sta skin ragazzi 20c poi raga tantissimi stile aggiuntivi wow ragazzi pass bello questo non mi ricordo come si chiama ma molto bello raga sette pagine gg tanta roba mantello vabbè stile aggiuntivi di box bello pure sto stile mi piace la lancia vabbè raga come simile alle altre season altri box foto di caricamento e poi quest'altra supereroe poi qua 5 6 e 7 da scoprire ok adesso andiamo a vedere il pass bella taglia allora ragazzi 14 pagine come sempre spadine di box canzoncina ok poi belle ste doppie spade ok stile aggiuntivo già equipaggiato perfetto seconda pagina ragazzi ovviamente raga vado veloce perché è un video quindi non voglio farvi troppo le bols grandi bello che sono ragazzi gg tanta roba quest'altra bella sta skin ok poi si va a pagina 3 ragazzi e abbiamo iron man bella raga bello 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 a questo il backpack e questa è la skin di iron man ragazzi poi ovviamente c'è la seconda pagina pagina story aggiuntiva vediamo un po stile aggiuntivo di iron man ragazzi molto bello pagina 5 bananita ragazzi di wolverine ok bella simpatica raga simpatica ci piace ci piace ragazzi vi ricordo di lasciare sempre un like on full stile bello aggiuntivo ok backpack bellissimo raga belle allora per adesso un bel pass ragazzi davvero un bel passo se non ero queste storm ragazzi dovrebbe essere storm e vabbè tanta roba pagina 8 storm stilo stiloso 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 bello raga mamma mia tutto tridimensional poi andiamo a pagina 9 ragazzi dove abbiamo bello set di capitano a morga ragazzi beh gg raga gg raga like like per il pass ragà bellissimo pagina 10 capitan america sempre stili aggiuntivi carino dai diciamo carino bello questo ok 11 raga ho piacere che hanno fatto la skin di base no proprio capitano america capitano america ok misterio ragazzi la misteria fine ok il mantello ovviamente c'è ragazzi pagina 11 12 raga ok bella pista raga bello molto bello 5 bucks altro stile 13 raga che abbiamo il 13 vediamo un po 14 black panther ragazzi ragazzi tanta tanta roba e per black panther ok black panther gg ragazzi e questo è tutto il passo ragazzi io vi saluto vi ricordo siamo in live tutti i giorni tra le 11 e 11 e mezza mi raccomando venite a trovarci un bel pollicione in su e un bacione a tutti ciao boys dal posto schifi gay ciao ciao ciao